Un ottimo debutto per contestare la prestazione, direi che tanto tempo che non si vedeva eliminare a giocare così purtroppo un episodio ci penalizza però forse va a mantenere un po' la razionalità di dire se si gioca così... Sono molto contento della prestazione dei ragazzi perché al di là dell'errore tecnico chiaramente quando capita al portiere può condizionare una partita E' anche altrettanto vero che abbiamo avuto due o tre occasioni da gol pulite come le hanno avuto anche loro Probabilmente Legnaro oggi meritava più, meritava sicuramente i tre punti, questo è il mio parere personale chiaramente penso non di parte Però sono molto fiducioso per il prossimo del campionato perché mi sono una squadra che esprime un grande gioco Mi sono divertito soprattutto nel primo tempo con delle azioni veramente importanti Ho visto un gruppo di ragazzi determinanti che si aiutano Chiaro che un campionato l'abbiamo detto da subito che va affrontato per la pergara con la massima intensità, la massima attenzione E' un buon inizio campionato, consideriamo che l'anno scorso hanno fatto 13 partite e 10 punti Oggi abbiamo fatto un primo punto e quindi questo è significativo Fra altre cose faccio complimenti all'organizzazione di Misti Apiglieri Che è venuto comunque a fare la partita mettendo in campo una buona formazione Con le ragazze che già conoscevamo fra altre cose Quindi assolutamente complimenti anche alla Donatese Il campionato è lungo, siamo fiduciosi e ben convinti che possiamo far bene E' uno dei giocatori che ha fatto forse una depressione migliore E' un giovanissimo tunesi Quale la sorpresa no? Si, i tunesi lo conosciamo, l'ha voluto fortemente il triotrasportivo Bitocera In effetti un giovane di grande talento Ma come hanno fatto bene tutti gli altri giovani Cioè nel senso che sia Barbui che insomma gli altri giovani a disposizione Hanno anche l'uso, hanno fatto una grande prestazione Un'attaccante di esperienza da marcare Stiamo parlando di ragazzi del 2001, del 2002 Quindi ragazzi che ancora devono fare esperienza in categoria Siamo molto soddisfatti e sono anche contento di aver visto grandi in campo Anche se per pochi minuti, perché sono convinto che poi lì davanti Provo a darci una grande mano Come sono soddisfatto di tutti i ragazzi dell'Egnano oggi Sono, vi dico la verità, sono molto sereno e tranquillo Questo è il rumore che ho Forse un anno di esperienza in Serie D Porta un po' più di riflessione Perché magari l'anno scorso mi sarei anche arrabbiato, no? Era il primo anno per salute Con calma, con fiducia e convinzione